Ed eccoci di nuovo insieme in compagnia per riprendere il viaggio virtuale sospeso nell'ultima puntata per tornare a parlare degli oasis, del perché della loro rottura, insomma quella tra i fratelli Gallagher e della loro carriera forse un po' zoppata. Eravamo rimasti al 2005, poi ecco che dopo una pausa nel 2009 la band è pronta a suonare nuovamente al Festival Rock and Sign di Parigi. Noel Gallagher però scrive ai fan, è un po' con tristezza e grande sollievo che vi dico che ho lasciato gli oasis stanotte, le persone scriveranno e diranno ciò che vogliono, ma semplicemente non potevo continuare a lavorare con Liam ancora per un giorno. Anni dopo Noel ha rivelato di avere preso la decisione mentre era seduto in macchina fuori dalla location del Festival. A luglio del 2011 poi è sempre Noel Gallagher a ufficialmente confermare il suo primo progetto post-oasis registrato con il nome di Noel Gallagher's High Flying Birds. Nel 2011, quindi stesso anno, l'altro fratello Liam invece appare su Twitter per la prima volta utilizzando social media per prendere in giro il fratello Noel in diverse occasioni. Uno dei primi episodi è stato un commento su Noel che faceva coppia con il comico Russell Brand per un programma radiofonico. Noel Gallagher, Russell Brand, accidenti, che coppia di vecchie comari aveva commentato. Stesso anno Noel Gallagher ha chiuso la porta però anche alla reunion con parole forti, nonostante si trattasse di celebrare il ventesimo anniversario di What's the Story Morning Glory per i fan e per celebrare l'album, non però per Noel o per i soldi. Nel 2016, infatti, Liam continua imperterrito a usare Twitter per prendere in giro il fratello paragonandolo a una patata in una serie di Twitter in cui però appunto in uno non usa esattamente questo termine ma uno ben più colorito e anche insomma da sapore di insulto. Dopo l'attentato terroristico durante un concerto di Ariana Grande a Manchester nel 2017, invece Liam è apparso insieme a Chris Martin, The Coldplay, al concerto benefico One Love Manchester, suonando alcune canzoni degli Oasis durante la sua esibizione. Ma il giorno successivo all'evento ha anche criticato il fratello su Twitter per non avere partecipato all'evento. Non è una reunion amico, non si tratta degli Oasis, si tratta della gente che aiuta gli altri e lui ha mostrato ancora una volta i suoi veri colori. Gli organizzatori di One Love Manchester però successivamente dichiararono che né Noel né gli Oasis erano mai stati programmati per esibirsi all'evento. Parlando con il Sunday Times, Noel poi ha affermato che Liam deve vedere uno psichiatra, aggiungendo dei giovani di Manchester sono stati massacrati e lui per due volte ha cercato di far diventare la questione qualcosa che riguarda lui. Deve vedere qualcuno, insomma ancora parole molto pesanti alle quali Liam aveva risposto su Twitter commentando e per quanto riguarda vedere qualcuno scommetto che tu e la tua signora ne avete diversi. Insomma sempre veleno. Nel 2017 Liam Gallagher ha dichiarato che Noel ha bloccato l'uso delle canzoni degli Oasis nel documentario New Worth 2022 e ha bloccato l'uso dei media alla sua esibizione cantando materiale degli Oasis al concerto tributo a Taylor Hawkins. E pensare che lo scorso anno nel 2022 Noel Gallagher aveva dichiarato che gli Oasis vendono più dischi oggi rispetto a quando erano insieme, spiegando anche io sono contento. Infatti i dati lo dimostrano. Lo scorso ottobre, quindi siamo ormai al 2023, Liam ha annunciato una tournée per celebrare il trentesimo anniversario di Definitely Maybe. Un fan ha chiesto su Excel, ex Twitter, se presenterà sul palco il fratello Noel, ma lui ha risposto secco, gli è stato chiesto e lui ha rifiutato. Infatti Gallagher è stato intervistato poi da James Kabuter, ovviamente Noel Gallagher, e ha dichiarato che l'ultimo tributo degli Oasis non è stata una bella esperienza. L'altro tizio, e con questo ha indicato il fratello Liam, sta cercando di riscrivere la storia degli Oasis come se fosse stato tutto grandioso, ma non lo era. L'ultimo anno degli Oasis è stato orribile. Noi però ci salutiamo ora con un brano che è appunto un ricordo, in questo caso molto bello, ed è appunto quello di Definitely Maybe. Buon ascolto!